Ciao, anche da casa puoi scegliere il tuo futuro. Sono Federico Turani, iscritto al corso di l'Ara Magistrale di Economia e Diritto di Impresa e cercherò di esporre quello che secondo me è un po' il principale punto di forza del nostro percorso di studio, che è quello di riuscire a dare allo studente ben applicato una grandissima capacità di collegamento interdisciplinare, cioè la capacità di capire che le tematiche che si affrontano nei vari percorsi di studio non sono altro che possibili punti di vista offerti da quella determinata materia circa la tematica economica generale che cerchiamo di affrontare e che cerchiamo di studiare. Credo che il più grande consiglio che uno studente possa dare ad un futuro studente sia quello di avere il coraggio, forse a volte anche la sfrontatezza, di rapportarsi con i propri professori, di chiedere sempre qual è il loro punto di vista circa una determinata tematica, di non avere paura di confrontarsi con loro anche a volte avendo opinioni differenti, perché l'obiettivo ultimo deve essere sempre quello di riuscire ad avere al termine del proprio percorso di studi un pacchetto di competenze quanto più possibile ampio, quanto più possibile completo e proprio quel rapporto con i propri professori, proprio quella mezz'ora in più spesa per rapportarsi con loro circa una determinata tematica, può riuscire in questo processo di formazione dello studente ad avere un ruolo secondo me importante. Fate la scelta giusta!